Dal portone alle sue spalle uscì la sera del 6 giugno del 2000 Suor Maria Laura Mainetti. L'avevano chiamata, avevano chiesto il suo aiuto. Quella sera Suor Maria Laura morì uccisa con decine di coltellate. Il 6 giugno di quest'anno sarà dichiarata beata e Chiavenna naturalmente vuole ricordare la religiosa. Abbiamo ritenuto che sia importante lasciare un segno continuativo della presenza dell'opera del ricordo di Suor Maria Laura. Per questo motivo è in corso la procedura anche attraverso il parere della prefettura per dedicare questa via al ricordo di Suor Maria Laura Mainetti. Sono i luoghi in cui Suor Maria Laura ha lavorato, ha prestato servizio, è stata vicina ai bambini, ai ragazzi, alle loro famiglie, alle ragazze del convito. È il cuore della sua vita e della sua attività di servizio alla comunità. È il luogo anche da cui quella sera uscì per pensare di prestare aiuto a queste ragazze. Ricordiamolo, ci troviamo in quella che attualmente è la sede della comunità montana ma che una volta ospitava alle scuole. Sì, in questo luogo oltre a essere il luogo di vita delle suore e della comunità delle suore figlie della croce, per molti anni vi furono delle scuole, scuole per i nostri ragazzi, per i bambini della città. Generazioni di bambini e giovani sono cresciuti grazie all'educazione attenta e premurosa delle suore nei vari livelli scolastici. È un luogo simbolo della nostra città e soprattutto luogo simbolo nella storia di Suor Maria Laura. Non soltanto l'intitolazione di questa via alla religiosa uccisa, quale altra iniziativa? Contestualmente abbiamo ritenuto di dedicare un'altra via a un personaggio importante della storia della città, Don Giocondo D'Amato, per numerosi anni in servizio presso la nostra comunità. Da lui nascono molte iniziative, in particolare nasce la storia della prestigiosa corale laurenziana di Chiavenna. Anche per questa figura è importante dedicare un luogo, un tratto di collegamento tra Piazza San Francesco, Piazza Bormetti e l'area di Pratogiano che verrà appunto dedicata alla memoria del sacerdote.